Si stava meglio quando si stava peggio, quando l'arrivo del primo sole e la voglia di animare le spiagge, sia da parte dei fruitori che dei concessionari, aveva la priorità su tutto. Poi, la corsa frenetica a regolamentazioni, direttive europee e altre medenità burocratiche ha insidiato le vecchie sane abitudini delle comunità costiere, tanto da aggiungere al primo vero e proprio weekend da spiaggia, con i balneari impossibilitati a fornire anche gratuitamente un minimo di servizio, due littini e qualche sdraio sull'arenile e la gente, costretta ad arrangiarsi i contelli di fortuna per lasciarsi baciare dal sole. Questo perché, a differenza dello scorso anno, il cosiddetto periodo di helioterapia, che anticipa la vera e propria stagione balneare, è stato fissato dal 25 novembre al 5 marzo, quindi dal 6 marzo al 31 maggio la desolazione più totale. Il presidente di Sibconf Commercio Abruzzo, Riccardo Padovano, raggiunto stamani al Talent Day per giovani a ricerche di opportunità lavorative nel settore turistico, esprime tutto il suo disappunto. Queste cose noi le abbiamo detto a febbraio, gliele abbiamo riscritte, e quando l'ordinanza il 5 di marzo è uscita, si è stata inviata, noi da quel momento stesso abbiamo chiesto alla regione Abruzzo un ripensamento, una riscrittura della stessa ordinanza. Una, perché era diversa da quella dello scorso anno, e due, perché è molto confusionaria e difficile da comprendere. L'immagine è stata danneggiata della città di Pescara e dei comuni costieri che purtroppo nella giornata di ieri, ma come si verificherà la prossima settimana, le persone che possono godere di questo bene pubblico che è il mare e la nostra spiaggia si sono ritrovati purtroppo con gli asciugamani sugli arenini, al contrario dello scorso anno, che avevano tutti i servizi per quanto riguarda l'elioterapia, e che era una delle condizioni che consentiva a noi barneatori comunque di stare con un po' di allegria sulle spiagge. Vedere le serrande chiuse degli stabilimenti barneari non è stata una bella immagine per la città di Pescara e per le città limitrofe. Di questo se ne vuole rendere conto la regione Abruzzo, vuole metterci immediatamente dietro il tavolo. Comunque anche di queste cose ne parleremo l'11 aprile a Roma, perché sta diventando una torre di babele per quanto riguarda le concessioni di maniare su tutto il territorio locale e nonché nazionale. Questo anche per quanto riguarda il montaggio delle palme. Se noi non abbiamo l'opportunità, che io mondo le attrezzature, e poi sotto le attrezzature non ci posso mettere i lettini per far godere i bagnanti. E tenuto conto che questa attività non è che viene fatta pagare ai clienti. Basta chiedere a qualsiasi pescarese, nessuno ha mai pagato un centesimo. E' un modo per organizzarsi e per tenere aperta.